Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che questa settimana va in onde dalle nevi transalpine di Flan dove si è appena conclusa la terza tappa di ISMF, Ski Montaniri in World Cup. Nella prova individuale al femminile sempre solo Axel Mollaret. Al maschile battaglia dall'inizio alla fine, la prova si è conclusa con uno sprint che ha premiato un vero e proprio highlander di questa specialità, ovvero l'italiano Matteo Eidalin. Oggi eravamo un po' in bagarre con Anselme e Magnini nella seconda parte di gara, sul finale ci voleva un po' di lucidità, un po' di fortuna e un po' di forza e disperazione che forse ho avuto un po' più io degli altri e niente, me la sono giocata bene, la scorsa settimana me l'ero giocata male e oggi mi sono rifatto con gli interessi. A concludere la due giorni transalpine è stata gara sprint. Gli italiani hanno un poco pagato d'azio a vincere questa volta, è stato lo spagnolo Oriol Cardona Col. Sì, dopo due anni intentando buscare un risultato così, sto molto contento di poter arrivare a lo alto del podio, la verità è che mi trovo molto bene, sto preparando specificamente gli sprints e sto molto contento e molto felice di questo risultato. La carrera era un sprint largo, di 4 minuti, questo significa che c'è più cansancio e è meno explosivo, e ho intentato riservarmi e poter arrivare alla finale con forza e alla finale ho dato tutto, ho avuto molti gani, dopo l'ultimo sprint in cui mi penalizzarono injustamente, ho avuto molti gani di arrivare alla finale e darlo tutto. Nella gara in rosa si riconferma, come a Ponte di Legno, Marianne Fatton. Sono molto contenta di aver raggiunto il sprint oggi a La Flan, e questo è stato benissimo per me, dal principio, il parkour è stato molto interessante, ho avuto molti rispondimenti e è stato davvero cool. Nella gara femminile è però andata decisamente bene la giovane Mara Martini, per lei quinto posto assoluto. Anche oggi sono riuscita a conquistare la finale, a conquistare una top 5, quindi direi che sono molto contenta. Peccato per il finale che un piccolo errore mi ha fatto perdere la quarta posizione, avevo nel mirino il podio, però sarà per la prossima volta. La finale è andata molto bene, sono partita convinta, determinata, le discese mi piacevano, in salita ero un po' più stanca, però va bene così. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai. Grazie per la visione!